Parliamo di persone che sono in Italia in condizioni regolari, come tanti dei nostri figli che vanno all'estero, in nazioni dell'Unione Europea o, che è un bel flusso, fuori dall'Unione Europea. Questa roba non la pagano. I migranti non devono pagare la tassa di soggiorno, anzi possono richiedere il rimborso di quanto hanno ingiustamente versato dal 30 gennaio 2012 al 24 maggio 2016. A lanciare questo messaggio sono Inca e CGL che si mettono a disposizione dei migranti e delle loro famiglie per informazioni ma anche per consulenze e assistenza necessarie al disbrigo delle pratiche. Quando rinnovano il permesso di soggiorno c'è una tassa composta dal contributo che va allo Stato, dalla marca da bollo di 16 euro e dalla raccomandata abbastanza costosa che prende le poste italiane. Quindi complessivamente ci vuole intorno a 80 euro. Quindi l'Inca, la CGL, si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea e la Corte ha detto che è legittimo che uno Stato introduca dei costi, però li deve rapportare alle esigenze e soprattutto li deve portare al reddito delle persone. Noi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea abbiamo iniziato a fare le richieste di rimborso che sono state tante. Il messaggio a coloro che non l'hanno fatto possono rivolgersi agli uffici dell'Inca e della CGL per fare questo tipo di domanda. Lo Stato non rimborsa, abbiamo fatto alcune cause pilota, alcune abbiamo già avuto ragione, altre sono in procinto. A questo punto si introduce i Ministeri dell'Economia, il Ministero delle Finanze, la Presidenza del Consiglio e ha fatto ricorso alla sentenza del TAR del Lazio e quindi sostanzialmente blocca tutto. La sentenza del TAR del Lazio cosa ha stabilito? La sentenza del TAR del Lazio ha stabilito che questa tassa è legittima e quindi lo Stato deve di nuovo intervenire, giustificare e soprattutto modulare in base al reddito posseduto dal cittadino che chiede il permesso.